Elena Carnevali, parlamentare del PD, le tre ragioni per votare sì domenica al referendum costituzionale. Innanzitutto perché dopo 30 anni di tentativi inconcludenti finalmente cambiamo la seconda parte della Costituzione, quella che riguarda l'ordinamento della Repubblica che gli stessi padri costituenti avevano riconosciuto che non era ben riuscita. Perché non tocchiamo i principi fondamentali, non tocchiamo i diritti e i doveri dei cittadini, rafforziamo la parte che riguarda anche le garanzie istituzionali perché con questo aggiornamento, perché così dovremmo definirlo, della riforma costituzionale rendiamo questo Paese più efficiente con le richieste del tempo moderno. Lo dico anche dopo tre anni di esperienza parlamentare, l'ho visto da relatore di alcune leggi. Il procedimento del bicameralismo paritario non sempre produce qualità legislativa e abbiamo troppe leggi che sono importanti che in questo momento sono ancora fermi al Senato, dato anche dalle diverse modalità di elezione e anche di rappresentanza. Quindi io sono convinta che con questo aggiornamento o riforma costituzionale, di questo ne sono sempre più convinta e io credo che avremo anche più voci in Europa. Visto qual è, tra l'altro, il quadro politico a livello europeo, anche il prossimo futuro, oltre a quello che abbiamo appena visto nel recente passato, e questo ci permetterà soprattutto di poter agire di più rispetto ai cambiamenti di natura economica. Penso alla gestione dei flussi migratori e penso per esempio all'esigenza di combattere il terrorismo internazionale. Penso perché soprattutto sono convinta perché ce lo dice anche il mondo produttivo e noi abbiamo bisogno di avere più lavoro per avere più occupazione e il mondo produttivo ci sta dicendo che abbiamo bisogno di un paese più efficiente e 21 leggi regionali diversi, soprattutto in alcune materie, come le grandi infrastrutture, come le attività commerciali, non possono essere, come dire, non essere un tema di carattere nazionale. E forse l'ultima, quella che mi sta più a cuore, e lo dico in questo territorio dove ho visto moltissimi manifesti della Lega, che raccontano delle sciocchezze, per usare un termine come dire corretto, politil corretti, riguardo al fatto che con questa riforma chiuderemo gli ospedali oppure ci sarà lo scippo della sanità. I leghisti dovrebbero ricordarsi che nella riforma del 2006 la tutela della salute veniva riportata in capo allo Stato esattamente come viene riportata adesso, ancorché sotto, le disposizioni generali comuni. Quello che dobbiamo in un paese civile è la garanzia degli stessi diritti in materia di sanità, sia che io abiti a Milano, sia che io abiti a Reggio Emilia, sia che io abiti a Reggio Calabria. E con questa riforma costituzionale io penso che avremo più diritti, soprattutto perché nelle istituzioni più fragili chi paga di più sono i soggetti più deboli.